Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo nuovamente di Super Mario 3D World e Bowser's Fury in quello che dovrebbe essere il video analisi definitivo, sempre che Nintendo non decida di pubblicare un altro trailer a caso facendomi perdere ore e ore di lavoro. Tra conferme, nuovi dettagli e informazioni emerse in rete c'è ancora tantissimo da scoprire a proposito del gioco ma prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Il nuovo trailer di 7 minuti pubblicato da Nintendo ha messo tanta carne al fuoco, questa volta dando spazio anche all'avventura principale oltre che a Bowser's Fury. Alcune informazioni però risultano ancora incomplete o un po' confuse. Fortunatamente c'è il sito ufficiale a fare chiarezza su molti di questi aspetti. Come dicevamo, la prima parte del trailer si è concentrata su alcuni dettagli generici di Super Mario 3D World. Abbiamo un accenno alla trama e anche qualche informazione sul gameplay, che è una sorta di ibrido tra i classici platform in due dimensioni e le avventure in 3D di Mario e compagnia. A proposito della cricca dell'idraulico italiano, nel trailer vengono mostrati quattro personaggi giocabili e le loro peculiarità. Non viene fatto alcun accenno al quinto personaggio sbloccabile, che però viene confermato all'interno del sito. Passando alle novità, viene finalmente chiarito il funzionamento dell'online, anche se in pieno stile Nintendo non è che la questione venga spiegata nel migliore dei modi. E di nuovo il sito ufficiale torna utilissimo nell'illustrare le modalità possibili della cooperativa. Fino a quattro giocatori possono utilizzare la stessa console per un multiplayer in locale, senza bisogno di comunicazione wireless o internet, e tra l'altro sembra essere confermato che si potrà giocare con i joycon in modalità separata. Si potrà poi usufruire della comunicazione wireless tra console per un multiplayer in locale, dove ogni console potrà ospitare un massimo di due giocatori, e per finire, tramite internet, si potranno creare delle stanze per giocare online, ma solo con utenti appartenenti alla lista amici. Anche qui, fino a due giocatori, potranno usufruire della stessa console, e ovviamente sarà necessario avere un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online. Altra novità risiede nell'aggiunta di una modalità fotografica, presa direttamente da quella vista in Super Mario Odyssey. Ennesima conferma che tra questi due titoli ci sono tantissimi punti di contatto, e che Bowser's Fury sembra a tratti più un DLC di Odyssey che un'espansione di 3D World. Interessante che i collezionabili sparsi nei livelli di gioco, ovvero i timbri, potranno essere utilizzati all'interno di questa modalità. Un'idea carina, visto che la loro funzione principale era legata al Miiverse su Wii U, una feature non presente su Switch. Una cosa molto particolare analizzata dal canale Nintendo Life è che il gioco, pur risultando sostanzialmente identico a livello contenutistico, presenta un'azione di gioco molto più rapida rispetto alla versione Wii U, un cambiamento quasi impercettibile, ma che dona tutto un altro ritmo al gameplay. E per finire, con il gioco base sono state mostrate le funzionalità associate agli amiibo. Super Mario 3D World sarà compatibile con tutti gli amiibo, ma le due nuove statuine di Mario e Peach Gatto garantiranno dei bonus specifici. Quella di Mario donerà il power-up del gatto bianco, una versione invincibile del felino, mentre quella di Peach ricompenserà il giocatore con un power-up scelto casualmente. Anche Bowser's Fury presenta il supporto agli amiibo, e sul sito è possibile leggere le funzioni di Bowser e Bowser Jr. Namibo del re de Koopa consente di far apparire Bowser Furioso, mentre quello di suo figlio produce un potente attacco nella forma di un'onda d'urto a lungo raggio. Passando all'espansione, sono state confermate tante delle speculazioni che abbiamo fatto ieri in video, ma si sono aggiunti anche nuovi interessanti dettagli. Partiamo dal fatto che sul sito giapponese del gioco è possibile trovare il filmato introduttivo dell'avventura, che presenta un altro bellissimo rimando a Super Mario Sunshine. Come ipotizzato, quella di Sgattaiolago è una vasta area open world divisa in più isole liberamente esplorabili. L'obiettivo è quello di fermare Bowser Jr. nel fermare la furia di Bowser, e per farlo Mario dovrà raccogliere i solegatti necessari per sbloccare la giga campana. Ma andiamo con ordine. L'unico tipo di multiplayer in questa avventura sarà quello locale a due giocatori, dove il secondo utente potrà prendere il controllo esclusivamente di Bowser Jr., ed aiutare Mario tanto in battaglia quanto nelle interazioni ambientali. Probabilmente Mario sarà l'unico personaggio giocabile in Bowser's Fury, almeno nella prima run. Ancora non è stata confermata l'utilità delle medaglie gatto, né il ruolo degli NPC sparsi per la mappa di gioco. È stata però spiegata la presenza di Bowser, che come qualcuno di voi aveva pronosticato ieri nei commenti, si paleserà periodicamente in un ciclo molto simile a quello della luna rossa di Breath of the Wild. Tra l'altro, come mi avete fatto notare su Instagram, il design di Bowser Furioso ricorda tantissimo il Bowser visto in Mario Strikers per Wii quando effettuava un tiro speciale. Una somiglianza secondo me molto interessante, e quindi sì, seguitemi anche su Instagram perché è il luogo perfetto per interagire direttamente. In ogni caso, quelli con il re de Koopa saranno degli incontri a tempo in cui non bisognerà far altro che resistere scappando. L'unico contrattacco possibile sarà tramite la trasformazione in Giga Mario Gatto, ottenibile spezzando i sigilli della Giga Campana. Purtroppo non è ancora stato mostrato il gameplay del combattimento tra le due versioni Giga dei personaggi, né l'effettiva utilità di questa trasformazione. Sarà un processo da ripetere più volte solo per velocizzare la sparizione di Bowser, oppure una volta sconfitto, il re de Koopa non si presenterà più. È ancora presto per dirlo, e questo dubbio si inserisce nel contesto generale dell'unica preoccupazione relativa a questo titolo, la sua longevità. Per quanto sia molto interessante tutto quello che è stato mostrato fino ad ora, speriamo che si tratti di un'espansione corposa e sviluppata a dovere, un'aggiunta sostanziale che possa convincere l'acquisto anche chi ha già giocato a Super Mario 3D World su Wii U. Quindi voi poracci cosa ne pensate? Siete soddisfatti di quanto Nintendo ha mostrato fino ad ora? Avete ancora delle perplessità riguardanti Super Mario 3D World e Bowser's Fury? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua in fondo. Se questo genere di video vi piace, fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Video, Michele in ritardo, ciao! Ciao!